Ciao a tutti da Savio di AppleTVBlack.com Oggi procediamo all'estrazione del Rhythm Contest che vede in premio la visione di un anno di Futubox la visione dei canali Sky su sistemi iOS, Android, PC e Mac Procediamo con l'estrazione Vi mostro che sono stati inseriti tutti i nomi nel database dei partecipanti al contest L'estrazione verrà in modo casuale Procediamo all'estrazione Sono le 17.12 come vedete e procediamo all'estrazione Auguri a tutti In bocca al lupo Ciao Ok E' un testo Grazie a tutti